WeGo, il nuovissimo scooter elettrico autobilanciato, rappresenta un'innovazione nell'ambito degli spostamenti cittadini e non solo. Agile e maneggevole, si impara a guidare in pochi minuti. La batteria è a litio, con un'autonomia di 38 chilometri. WeGo è per privati, golfisti, aziende, aree promozionali, supporto alla mobilità e settore turistico. WeGo, il nuovo modo ecologico di vivere l'ambiente in tutta comodità. Per tutte le informazioni www.wegoscooter.com